Altra giornata epocale per la storia della fisica moderna, quella dello scorso 15 giugno. Dalla conferenza dell'American Astronomical Society, in diretta da San Diego, in California, i responsabili di LIGO e VIRGO hanno dato l'annuncio dell'osservazione di un secondo evento di onde gravitazionali prodotte dallo scontro di due buchi neri distanti 1,4 miliardi di anni luce, confermando così la sensazionale scoperta dello scorso febbraio. L'annuncio è stato seguito in diretta anche dall'Università di Camerino, i cui ricercatori della sezione di fisica, in collaborazione con i colleghi della sezione del INFN di Perugia, fanno parte proprio del gruppo VIRGO. È una giornata importantissima per l'Università di Camerino, certamente, ma è importantissima per tutto il mondo della ricerca e dell'innovazione, perché, come dire, sarà la perfetta sintesi della bellezza della ricerca e dell'innovazione. Il trasferimento di conoscenze è qualcosa che colpisce non solo chi è appassionato di conoscenze, che lavora nel mondo della formazione e della ricerca, ma colpisce anche tutto il mondo imprenditoriale, perché per raggiungere questi importantissimi risultati, i ricercatori che sono stati coinvolti in tutto il mondo della fisica in maniera multidisciplinare ha dovuto risolvere delle questioni che oggi possono essere applicate per nuove tecnologie, ad esempio di misurazione, nuovi strumenti per la sismica, eccetera. Quindi le onte gravitazionali sono una conferma di qualcosa che veniva, lo abbiamo misurato, vedremo oggi quello che è stato osservato di nuovo rispetto alla prima fase, però invito tutto il mondo dei sistemi produttivi e degli imprenditori a guardare con interesse gli impianti che sono stati sviluppati, perché saranno motivo anche di nuova imprenditoria. È un'occasione per poter fare il punto delle misure scientifiche portate avanti dai rivelatori al momento del rivelatore Ligo americano e della collaborazione italo-francese internazionale dopo ormai tre mesi, perché ci vedemmo tempo fa per celebrare la prima rivelazione diretta di onde gravitazionali, adesso è il momento di fare il punto per vedere e tirare le somme su quello che è stato visto, quindi si cominceranno a vedere le prospettive di utilizzare questi rivelatori per capire l'universo sostanzialmente, se e come possiamo utilizzare questi rivelatori di onde gravitazionali per capire come è fatto il nostro universo che ci circonda. Come possono essere applicate? Applicare le onde gravitazionali non è banale, nel senso che l'effetto di queste onde è talmente piccolo che pensare di applicarle al momento non è banale. Certo, c'era una famosa frase, non sappiamo al momento come verranno utilizzate, ma certamente ci metteranno tassa sopra, quindi non lo so, non sappiamo. Certamente la cosa importante è che per scoprire le onde gravitazionali la tecnologia è stata spinta veramente al limite. Gli interferometri e gli strumenti che abbiamo costruito in Italia e negli Stati Uniti sono formidabili, in grado di rivelare un'oscillazione del miliardesimo di miliardesimo di metro e ci hanno permesso di scoprire moltissime cose, moltissime applicazioni che potrebbero essere utilizzate, anzi alcune già vengono utilizzate nella vita di tutti i giorni. L'annuncio è stato preceduto da un happening scientifico dalle ore 18 alla sala della muta, animato da Psi Quadro con esperimenti tratti dallo spettacolo Cacciatori di onde coprodotto con il consorzio Ego.